i pupazzetti non faranno successo non hai capito un cazzo scommetto non hai capito un cazzo ok dai i pupazzetti non faranno successo i pupazzetti non faranno successo il mio pupazzetto non proprio il mio i pupazzetti non faranno successo il pupazzetto è fatto di legna no ragazzi ve lo giuro da qua non senti le parole non lo so peggio di stare non lo so ora la faccio facile aspetta i pupazzetti non faranno successo i pupazzetti non faranno successo i pupazzetti non faranno successo ma vi dico perché ha detto questa frase avevo intenzione di farmi fare un pupazzetto mio e quando ha visto il disegno quando ha visto il disegno subito avrà pensato quando ho capito il pupazzetto allora subito ho detto questo è il pupazzetto però non sapevo hai detto pure che i pupazzetti vanno nel cesso ho un culo allora ultimo se riesci a capire è bene se no so niente quindi loro devo pensare a qualcosa il piccante ti aspetta e pre 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 cosa? pre 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 ripeto? si è ovvio il piccante ti aspetta iper detto qualcosa no no dai ancora avvicinate se no non entri non sfermo allora pronto? il piccante ti aspetta ma che cazzo ha detto ipercanti dai il primo è andato il piccante ti aspetta ipercanti ti aspetta ma non è il brigante non è il brigante che ti aspetta il piccante ti aspetta il piccine ti aspetta no che cazzo ha detto il piccante ti aspetta vedremo vedremo ragazzi qua sta durando assai sta sfida ok ma ora facciamo un tentativo solo ok dai la penitenza ti aspetta la salsa ti aspetta no dai l'ultimo e poi basta la penitenza ti aspetta la manichetta ti aspetta la penitenza vabbè vaffanculo vedremo vedremo questa te la indovino e si va indovino che te la avevi tu quella cosa anche se mi piacerebbe verla che davvero via per farti illudere lucio dalla cuccio no lucio dalla ho sentito ho capito solo dalla lucio dalla lucio dalla ho capito lucio dalla no bene ragazzi allora sono io quello che dovrà ci vorrebbe un tovagliolo ma non credo non fa niente allora useremo la cion cam adesso per per riprendere le cose che dovremo inserire allora eh dai mi scrivo io dai scrivi se vi essendo ovviamente ma facciamo qualcosa a questo punto ah eh si scusi no 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 Grazie a tutti